Buongiorno Antonio Misiani, che è un senatore del PD, che alzerà la mano questa sera, immagino, per un dibattito il 20. Io alzerò la mano per parlamentarizzare la crisi, per ascoltare il Presidente del Consiglio Conte rispetto a quanto è accaduto, alla frattura verticale che si è aperta tra la Lega e il Movimento 5 Stelle e a quanto è giusto che lui dica di fronte al Parlamento e al Paese. Altre ipotesi sono delle oggettive forzature e vanno in una direzione sbagliata. I tempi di questa crisi sono tempi istituzionali, non possono essere dettati da Matteo Salvini. Non è Matteo Salvini che può decidere quando si riunisce il Parlamento, non è Matteo Salvini che decide quando ci saranno le prossime elezioni. La Costituzione detta delle regole precise, seguiamole, ripristiniamo una gestione ordinata di una crisi che è già di per sé complessa.